Ma i copolini e i copolini, rieccoci qui, prezzemoline e prezzemolini, che piacere di trovarsi ancora qui. Patatini e patatini, buonasera. C'è qualche cosa che lo inquadra, ma è tutto tondo. Ma chi sono io, Babbo Natale e... Beh, sempre meglio che essere la Befana. Scusate, un tocco di raffinatezza, un po' retro se vogliamo, ma necessario per adeguarmi alla raffinatezza apolide di Lady Pizzella con Leopoldo Mastelloni. Non vedi quanto sopporti, ste sigarette. Bibi! Io, Oliver, se ci fossi rimasta, avrei avuto quelle soddisfazioni che l'Italia mi ha negato. Sì, sì, l'Italia mi ha negato perché, come si dice in inglese, nemo profeta in patria. Ma comunque voglio affermare e dire a testa alta che io sono una donna felice e realizzata. No, non sto recitando, è dolore vero, dolore da network privato, sì. Io non ho mai ceduto alle lusinghe, eppure, eppure i numeri ce l'avrei avuto. Avete visto che forme, avete visto che procacità, eppure in Italia niente. Ma lasciamo perdere e passiamo alla tua richiesta. Beccate sta canzone e ricordati che Apolidi si nasce e non si diventa. Grazie. 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 Grazie.